Siete pronti per i Turbo Fighters? La nuova sfida dei Tartos! Pronti all'attacco? Via! Dai potenza ai tuoi lanci! Potere Tartaruga! Turbo Fighters! Velocissimi! Armi rotanti per turbocombattimenti! E neutralizzi qualsiasi attacco! Tartarughe alla riscossa! Per Shredder è finita! Allora ragazzi, avete capito come si chiamano? Tartos Turbo Fighters! Sono loro, gli invincibili, i mutanti coraggiosi che combattono le forze del male! Mutant Ninja Tartos! Velocità! Abilità! Coraggio! Impara la grande arte delle Tartarughe Ninja! Scopri le loro armi vincenti! Zaini Ninja Tartos! La forza! Chiari Ninja Tartos! L'astuzia! Astucci Ninja Tartos! La tecnica! Sei pronto a entrare nel mito! Scuola Ninja Tartos! Giochi preziosi!